Ciao ragazze, ciao ragazzi, non vi spaventate se oggi mi vedete così con mezza faccia truccata, l'altra metà invece no mi rendo conto che siamo sotto carnevale quindi direi che siamo anche in tema ma non è un video di carnevale questo, bensì vi voglio far scoprire la nuova linea sono correttori e fondotinta ad altissima coprenza di L'Oreal, si chiamano Infallible Total Cover c'è appunto il fondotinta e la palette di correttori, poi vi darò anche qualche consiglio su che tipo, che colorazione di correttori utilizzare per le varie imperfezioni perché appunto di colori ce ne sono diversi, bisogna sapere come utilizzarli perché ogni colore va a neutralizzare un dato tipo di imperfezione un episodio in cui mi viene in mente, in cui avrei davvero avuto bisogno, se ce la faccio oggi, in cui avrei davvero avuto bisogno di questo fondotinta e quando io mi aspettavo che Tomas, voi lo sapete, mi ha fatto la proposta di matrimonio, mi ha invitato a cena eccetera quindi io sapevo che sarebbe arrivato qualcosa quella sera, quindi sapevo, non sapevo esattamente però sapevo che sarebbe stata una serata molto molto importante e in quel periodo, voi lo sapete, ve ne ho parlato tanto, dovrò farvi un video dedicato appunto solo sull'acne ma lo sapete in quel periodo avevo un acne terribile, mi sono rimasta ancora diverse cicatrici dopo tanti mesi, quindi immaginate quel giorno veramente ho dovuto fare tipo mascherone sul viso e invece avrei proprio avuto bisogno di un fondotinta come questo perché? Perché nonostante sia super coprente, appunto copre tatuaggi, tutti i tipi di imperfezioni possibili e immaginabili cioè copre tutto, è anche molto molto naturale, ha una consistenza tipo gel, è molto acquoso quindi è strano che sia così leggero quando lo indossi perché non lo senti però al contempo è appunto molto molto coprente questo è quello che tutti cercano poi in un fondotinta, quando hai molte imperfezioni eccetera hai bisogno di una coprenza buona ma tanti fondotinta sono coprenti però ti fanno l'effetto mascherone che è una cosa bruttissima e sono qui appunto per farvi vedere com'è il risultato finale che è appunto super leggero, non lo senti e invece come era prima, c'era un sacco di rossoli, di scromie e anche un bel po' di occhiaie bluastre che non ci facciamo mancare naturalmente quindi io vi lascio a questo punto al tutorial e vi mando un bacio stavolta iniziamo prima con i correttori perché sono correttivi quindi li metto sempre prima del fondotinta se vado ad utilizzare quelli colorati, rende il tutto molto molto più naturale come sapete la ruota dei colori come funziona, se avete delle imperfezioni di colore rosso si usa un correttore verde per coprirle per invece imperfezioni magari un po' più marroncine o comunque per un incarnato spento si utilizza il viola e poi ci sono naturalmente varie nuance del beige che vanno semplicemente insomma ad illuminare a coprire un po' tutte le imperfezioni e ovviamente ad illuminare il viso voi lo sapete che io vado sempre molto molto leggera con il correttore quindi amo le tonalità di correttore chiaro perché appunto oltre a correggere illuminano un sacco il viso e lo rendono più fresco inizio con il verde e vado a stenderlo appunto su tutte le imperfezioni di colore rosso quindi ai lati del naso insomma vedete io purtroppo ho sempre dei rossori molto pronunciati quindi dovrei farci il bagno io nel correttore verde purtroppo ho una pelle delicatissima e qualsiasi cosa anche solo toccare la mia pelle la fa diventare rossa ahimè quindi questi correttori sono molto molto cremosi si stendono che è una meraviglia forse ne ho preso anche troppo perché ne basta davvero davvero poco vado a picchiettarlo per bene vedete come neutralizza il rosso della mia pelle spesso mi dite ma perché ti metti fondotinta così chiare perché la tua pelle non è così chiara in realtà è molto chiara se vedete il collo è praticamente bianca il problema è che il mio viso è pieno di rossori quindi sembra più scura per questo ma in realtà devo far sì che il colore sia lo stesso identico del collo quindi un color cadavere come io amo definirlo vado a coprire il resto vedete qui ho ancora cicatrici dell'acne purtroppo e ci vuole parecchio tempo prima che se ne vadano anche se si vede un po il correttore va bene perché poi appunto andiamo ad applicare il fondotinta per questo che con i correttori correttivi con i correttori correttivi uso li applico sempre prima del fondotinta sfumo un attimino per dare un aspetto più naturale vado a scegliere il correttore beige quello più chiaro e vado ad applicarlo come al solito sotto alle occhiaie e dove ne ho più bisogno e vado a picchiettarlo sulla zona del contorno occhi come al solito ve lo sapete io stengo sempre il correttore dall'occhio fino al lato del naso e poi su verso l'esterno dell'occhio mi trovo molto bene così mi illumina lo sguardo anche se sono stanca nasconde ogni segno di stanchezza è fantastico quindi insomma non venitemi a dire ti prego non applicare così tanto correttore perché io amo il correttore e non vivrei mai senza quindi continuo così vado bene fino alla linea delle ciglia e poi anche nell'angolo interno ho sempre bisogno di correttore nell'angolo interno ecco potete già vedere la differenza solo sull'occhiaia da questa parte e dall'altra che è abissale davvero applico ancora un po' del correttore verde sul naso che mi sembra ancora molto rossiccio purtroppo eccoci qua lo sfumo sempre per bene guardate la differenza che fa il correttore verde sulle imperfezioni rosse è magico davvero quindi mi raccomando seguite sempre la ruota dei colori a seconda delle appunto delle imperfezioni io adesso non ho utilizzato quello viola ma è molto utile se avete occhiaie marroni le occhiaie non sono tutte dello stesso colore le mie tendono a essere più blu quindi mi serve un correttore beige aranciato per coprirle mentre se le vostre occhiaie sono un po' più marrone sì un po' più marrone come colore usate il correttore viola che fa miracoli passiamo al fondotinta quello che utilizzo oggi è l'infallible total cover di l'oreal è un fondotinta con coprenza altissima però con un effetto naturale quindi sono molto molto curiosa di provarlo tra l'altro copre anche i tatuaggi quindi questo insomma la dice lunga sulla coprenza ed è naturalmente super indicato per chi come me ha sofferto d'acne e ancora cicatrice oppure per chi soffre d'acne e vuole coprire tutto oppure per chi ha segni di stanchezza magari le occhiaie il correttore non basta questo è un fondotinta che copre tutto però non non appesantisce perché appunto è super super naturale certo uno specchietto è l'inizio l'applicazione del fondotinta come al solito inizio dal centro del viso e porto il colore verso l'esterno faccio sempre delle facce stranissime io quando mi trucco quando applico fondotinta mascara però non so se sono l'unica ma mi viene veramente naturale poi quando mi rivedo nel montaggio nel video dico oh signor cosa facevo tipo facevo però queste sono le facce l'importante è il risultato devo dire che è davvero molto naturale questo fondotinta ma ha una coprenza pazzesca in realtà già questo fondotinta da solo senza i correttori farebbe già miracoli di per sé almeno su di me come al solito vado bene verso l'attaccatura dei capelli sfumo giù verso il collo per un effetto super naturale ok direi che ci siamo ora vado ad applicare la mia cipria che è molto molto chiara molto leggera come sempre con il mio pennello da polveri per il viso vado a picchiettarla specialmente se vogliamo una coprenza importante è sempre meglio picchiettare la cipria piuttosto che trascinarla altrimenti rischiamo di portare via anche un po' di prodotto ora terra vado ad utilizzare con il mio pennello ventaglio che sapete ormai amo vado ad usare la glam bronze anche qui è importante che sia sempre opaca la terra se vogliamo un effetto naturale deve essere sempre sempre opaca e la stendo in questo pennello che è fenomenale sotto gli zigomi sull'attaccatura lungo l'attaccatura dei capelli e un po' anche sotto il mento ora blush questo si chiama il blush è numero 120 anche questo opaco vita opaca hashtag vita opaca ovviamente ormai veramente lo stendiamo sopra agli zigomi e voilà questo è il risultato finale fondotinta ad estrema coprenza ma anche molto naturale e strano perché i fondotinta di solito quando sono così coprenti sono pesanti invece questo non lo senti è a base a cosa e non lo senti addosso è super leggero quindi sono molto soddisfatta di questa base anche contouring insomma è molto naturale quindi questo è tutto per oggi anzi io voglio fare un ulteriore prova voglio togliere con dei dischetti rimuovi trucco metà base per farvi vedere la differenza con base e senza ok fa impressione ma sostanzialmente questa è la differenza del prima e del dopo ebbene sì ve l'ho detto la mia pelle ha un sacco di rossori e quindi ho mai visto una roba del genere perché non ci avevo mai provato nemmeno io però qui riuscite proprio a vedere la differenza tra una parte e l'altra del viso assurdo è terribile bene sono già pronta per carnevale direi niente questo è tutto davvero per oggi spero vi sia piaciuto questo video ne ho un sacco un sacco in arrivo un bacio gigantissimo e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao